Abbiamo votato contro un documento economico e finanziario che non dice nulla della nostra regione, non assume un impegno sulle risorse del Recovery Fund, non assume un impegno sulle risorse dei fondi europei, non assume alcun tipo di impegno per quanto riguarda il lavoro, il turismo, le imprese, il microcredito, le aree interne, la difesa del suolo, della costa e anche gli investimenti necessari per ammodernare il nostro sistema idrico perché c'è carenza nel trasporto ovviamente dell'acqua, carenze infrastrutturali. Non c'è assolutamente nulla, contestiamo davvero, sottolineandolo con forza, che non c'è stato alcun tipo di confronto. Le audizioni appena avviate sul bilancio ci confermano, dalle parti sociali al sistema delle università, a tutti i portatori di interesse che non vi è stato da parte di questa giunta alcun tipo di confronto per quanto riguarda un bilancio in cui appunto su questi grandi temi non è scritto nulla. Non sono state neanche previste le risorse del cofinanziamento per utilizzare le risorse europee e ci sono ancora tantissime imprese che aspettano e attendono i finanziamenti promessi con il Curabruzzo 1 e il Curabruzzo 2. E la postilla purtroppo, un'altra chicca di questa giunta regionale e di questo governo regionale, è che si vuole imbavagliare il Consiglio regionale, hanno messo nel bilancio due articoli per negare il diritto a tutto il Consiglio regionale di maggioranza e di opposizione di poter eccepire sostanzialmente le scelte della giunta. Una cosa c'è in questo bilancio, ancora una volta le risorse per il Napoli Calcio.